Ora parliamo di Atalanta! Nick, l'hai vista? L'ho vista ragazzi, è la partita più bella di quest'anno che ha fatto l'Atalanta perché l'Atalanta l'abbiamo vista anche cambiare quest'anno, invece era l'Atalanta solita La Lazio, chapeau, complimenti, nel senso che comunque è stata una bellissima partita ha fatto bene, però di fronte a quest'Atalanta quel bene non bastava poteva fare gol immobile, non sta ancora benissimo, ha avuto delle occasioni però era sempre... la partita la faceva l'Atalanta arrivava, recuperava palla, partivano in mille ragazzi, quest'attaccante io più lo guardo e più mi piace perché io ho solo il fatto che c'è all'età di mio figlio 2003 e divento matto margini di crescita incredibile prende fiducia, si vedono di più le sue caratteristiche però a partita di base a me mi è piaciuta è stata bella vederla lì sul divano perché anche la Lazio ha fatto quello che poteva fare ma di fronte a quest'Atalanta ragazzi non c'era nessuno che poteva tenerla quindi complimenti all'Atalanta Complimenti all'Atalanta, Antonio io penso che quando noi parliamo di Napoli e Spalletti in parte ovviamente non posso fare il paragone con Napoli e Spalletti però quello che sta facendo l'Atalanta gli ultimi sei anni con Gasperini una squadra tra virgolette che non sia Milan, Inter e Juve in questa continuità del genere io non l'ho mai ritrovato in nessun'altra squadra e nessun'altro allenatore perché parto da un presupposto che lui ha a disposizione ragazzi lui non ha campioni ripeto, lui non ha campioni lui ha tutti i giocatori che per quanto mi riguarda farebbero fatica a giocare in Serie A farebbero tanta fatica a giocare in Serie A perché ci sono dei giocatori che appena vanno via Ollum secondo me come potenziale è l'unico veramente devastante forte che lo metti con Klopp lo metti che ne so con un altro allenatore diventa ancora più forte con quel giocatore a disposizione li metti da un lato Salah l'altro Luis Diaz e lui c'entra avanti sfonda le porte perché è fortissimo sa giocare si sa muovere sa far gol è avvelenato mi piace tantissimo però la Lazio ha fatto una buona partita sì però io non posso pensare che l'Atalanta vada a Roma e disintegra la partita perché io continuo a dire che è folle che con tutto il rispetto dell'Atalanta Gasperini non possa essere ricercato dalla Juve ma dall'Inter stessa o da qualsiasi altra squadra che possa tentare di vincere un campionato perché questo allenatore qua ragazzi quello che ha fatto gli ultimi sei anni con l'Atalanta è un qualcosa di unico meraviglioso e pazzesco e quest'anno vedrete che venderanno altri due o tre pezzi a una valanga di soldi è merito sempre suo perché sta facendo veramente un qualcosa di unico a me io se io do Napoli dieci e lode con Spalletti a Gasperini e l'Atalanta gli do dieci gli do la lode a quegli altri che sono quindici punti in vantaggio sugli altri però io gli do un dieci pieno Gasperini e l'Atalanta è un qualcosa di meraviglioso io spingerò finché lui deciderà di allenare che lui deve avere un'occasione importante perché ha avuto quel momento con l'Inter due mesi eccetera però lui deve avere un'occasione importante di farlo lavorare se tu a Gasperini gli dai un'occasione importante noi vedremo veramente vincere tutto quello che c'è da vincere io sono convinto di questo perché se tu a disposizione gli metti gente di qualità che ha voglia di fare il gioco suo io non ho alternative che qualcuno possa veramente riuscire a battere lui per me è fenomenale lui sai cosa vi dico? forse esagero un po' però ogni tanto bisogna esagerare forse è il miglior allenatore dei giovani degli ultimi vent'anni dei giovani perché i giovani che c'è a lui quando arrivano sono dei buoni giovani buona prospettiva ma lui li porta ad un livello che è fuori dalla norma e questo vale per i giocatori giovani ma anche i giocatori che sono su con l'età lui fa diventare i giocatori fortissimi lui fortissimi gli dà una mentalità incredibile e loro lavorano tanto ma fate vedere le camme l'ora un video della partita contro lo posso dire camme? contro la Lazio Hoilund ha fatto due scatti uno di 85 metri uno di 43 metri ma ha 2000 all'ora e va in aria e va in aria a fare gol incredibile cioè quindi questo è il allenatore che è il giocatore io si sono vi posso dire una cosa con tutto il rispetto dell'Atalanta ci mancherebbe l'ha avuto e se lo sta godendo ma i soldi sono in Inghilterra ma io si sono una squadra forte in Inghilterra ok prendo lui e vado a prendere tutti i migliori giovani di Europa ma diventi una miniera diventi diventi un club incredibile diventi devastante con lui che lui ti porta a un livello che è impensabile sai dove mi piacerebbe vederlo Bovo? ti dico una squadra vediamo se se riuscite se parliamo di giovani di squadre in Europa io lo vedrei bene al Dortmund no al Liverpool no chi cazzo è? ma chi Gasp? si ah Gasp che avevi capito di chi ci parlava? tu di Gasperini no di Gasperini visto che Bovo giustamente ah tu dici Ajax bravissimo eh lo so però loro eh sì bravissimo ma ti prego una cosa Anto PSV Feyenoord che comunque hanno in Olanda giocano così uomo a uomo hanno il budget che non è e vai a cercare i giovani perché ci sono allora sì sicuramente lui dove c'è dove c'è da attingere da idee di calcio lui deve esserci allora secondo me non giocano proprio così non giocano proprio così perché la scuola olandese è una scuola di gestione della palla prolungata quasi fino allo sfinimento dell'avversario no? per poi imbucare invece Gasperini per me fa una cosa cercavo di pensarci in questo weekend io sono rimasto meravigliato da quella partita ragazzi perché la Lazio era credibile perché se tu togli immobile che non può essere quel calciatore perché comunque come dice anche Antonio uno può piacere non piacere però immobile non sbaglia davanti al portiere ok se tu metti quello come handicap che ha avuto la Lazio la Lazio è stata credibile ma l'Atalanta è stata invece incredibile è stato per questo che l'Atalanta è andata sopra la Lazio e io l'ho ammirata come spesso ci è capitato in questi anni io mi ricordo proprio ve lo dico un Atalanta Lazio dove noi eravamo a mangiare il finger se ti ricordi Silvio ti ricordi che guardavamo la partita nel telefono ogni minuto che l'Atalanta tirava una volta al minuto 2 a 2 è finita la partita ti ricordi Anto? si benissimo tirava una volta sei sicuro che non ha vinto l'Atalanta? 2 a 2 perdeva 2 a 0 ok quindi l'Atalanta ti ritorna in mente perché le ha fatte solo l'Atalanta quel tipo di prestazioni quindi l'ho ammirata ammirandola cazzo ci ho pensato tutto il sabato e l'Atalanta secondo me di Gasperini fa una cosa anche perché ho preparato delle cose e mentre prepari tu vedi le differenze perché vedi la varietà degli attacchi allora Anto l'Atalanta sai cosa fa di unico che per esempio non fanno in Olanda visto che abbiamo citato quel tipo di calcio che l'Atalanta non perde tempo a far girare il pallone l'Atalanta quando ha tanti giocatori nella metà campo avversaria ti rimporta in buca quando nella sua va davanti anche se in inferiuità numerica cioè l'Atalanta ha un obiettivo che non è gestire il pallone l'obiettivo è la conclusione che è la cosa più importante del calcio quindi cosa fa o ti arriva dritta per dritta e ti cerca oppure se l'altra squadra è schiacciata fa il giro palla e poi va dritto anche nel traffico infatti Gasperini ha detto una cosa sabato ha detto quello dove noi siamo tornati forti in questa partita è a livello tecnico perché l'Atalanta cosa fa? fa tecnica ma finalizzata alla conclusione non fa tecnica finalizzata alla gestione è un modo diverso di fare calcio cioè c'è chi ti fa diventare matto il Barcellona il Manchester City no? e poi cosa fa il Napoli il Napoli è un'altra che fa così dentro quella variante come hai detto te su Osimè perché Napoli fa tutte le due cose l'Atalanta invece fa una cosa appena può vuole farti male e lo fa tecnicamente e anche atleticamente allora sono andato Anto a scomporre le occasioni ok? allora l'Atalanta ha un centrocampista che è figlio dell'Olanda del 70 che è Copmeiners ma Copmeiners se fa il vertice basso lui non è che Deron esita e si mette lì a coprire Deron va in area di rigore avversaria il gol di Zappacosta è una palla che allarga come movimento Lukman ok? Lukman mentre si allarga quella verticale di fianco Oilun quando Zappacosta la mette all'incrocio c'è Deron che è il mediano ora non capita spesso di vedere un mediano difensivo come natura che va davanti ma sai perché? perché Copmeiners stava dietro il primo tiro in porto dell'Atalanta lo fa Copmeiners su finta di Ederson allarga le gambe ti ricordi Anto? allarga le gambe e lui tira perché arrivano tutti chiude Attebur a proposito di in bocca al lupo che si ha rotto il crociato ok? lato debole Lukman apre arriva Attebur e colpisce di testa questa è l'Atalanta poi questo ragazzo qui allora questo ragazzo Gasparin dice che fa i 100 metri in 11 secondi Oilunde corso 13-9 ha fatto 35 passaggi di cui 30 nella tre quarti della Lazio Copmeiners è un giocatore veramente di di quell'epoca con un pensiero troppo evoluto tanto è vero che la punizione alla nostra Argentina che fa 2-2 la dà lui quella palla perché quanti avrebbero fatto quel tipo di giocata perché se no tutti tirano in porta ragazzi allora lui fa in 11 secondi fa 100 metri quella il gol che fa che si butta dentro quando recupera palla Palomino che anticipa perché Palomino anticipa tra l'altro Palomino entra e pensa da attaccante non da difensore l'Atalanta io mi scrivevo con Antonio l'Atalanta nel recupero poteva fare tre gole ed era 2-0 incredibile cioè attacca l'Atalanta Palomino anticipa di fianco lui in mezzo al campo nella lunetta c'è Oilunde la palla va avanti arriva a Lugman Oilunde fa quasi 50 metri quasi una metà campo in poco più di 5 secondi poi rallenta anche un po' per non andare oltre e si butta in spaccata e di destra lo appoggia dentro ma questo l'hanno visto tutti quello che non sanno tutti sapete qual è? che Oilunde ha un papà che è stato un calciatore ha una mamma che è stata professionista di atletica leggera e i fratellini pure ha due gemelli del 2005 che giocano nel Copenhagen settore giovanile grazie a tutti grazie a tutti